Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'ordinanza emessa dalla Capitalleria di Gela, il Porto Rifugio è off-limits, vietato l'ingresso e l'uscita per tutte le unità navali a seguito delle ultime intense mareggiate che hanno accentuato il già rilevante fenomeno di insabbiamento. Porto di Gela off-limits, dopo aver constatato l'effettiva impossibilità di poter transitare dall'imboccatura della struttura portuale a seguito delle ultime intense mareggiate che hanno accentuato il già rilevante fenomeno di insabbiamento, la Capitalleria ha emesso un'ordinanza con la quale vieta l'ingresso e l'uscita dal Porto Rifugio il Comitato del Porto del Golfo di Gela, l'associazione dei pescatori e gli operatori portuali, nei prossimi giorni si mobiliteranno al fine di organizzare una protesta per sollecitare gli enti preposti e soprattutto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ad intervenire con urgenza per risolvere il problema. Finalmente è giunta questa chiusura definitiva per questo porto, visto che era comunque inagibile e quindi non serviva proprio a niente. Ha fatto bene la Capitalleria a chiuderlo, adesso mi chiedo come farà la città di Gela a non avere un porto, cioè praticamente una città senza porto non si è mai vista, è la prima città in Italia a non avere un porto ufficialmente adesso, finalmente. All'interno della struttura portuale non funziona niente, è una struttura abbandonata, una struttura costruita e abbandonata, quindi la Capitalleria non ha chiuso il porto per caso, l'ha chiuso per motivi logici e logistici. In pratica non si può più né entrare né uscire, il fondale è talmente basso che si rischia pure di andare a sbattere contro gli scogli. E ora voi cosa farete, considerato che voi proprio col porto ci lavorate? Noi cosa faremo? Io personalmente sto pensando seriamente a una chiusura totale dell'attività, chiudere e andarmene via pure da questa città. Se le istituzioni non si sbrigano a fare quello che c'è da fare, cercherò di andare via da questa città. Per in più di un'occasione la politica ha detto e ha rimarcato che avrebbe fatto il possibile per sistemare la situazione, però nel momento attuale è realmente accaduto poco. Diciamo che la politica si è impegnata a fare qualcosa per il porto, però non dovevamo arrivare a questo punto, siamo arrivati ad un punto quasi di non ritorno, troppo tardi, troppo tardi veramente. Caltacqua ha comunicato al Comune di Gela la presenza di torbidità superiore ai limiti relativamente ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo. Il sindaco Domenico Messionese ha così firmato una ordinanza che vieta l'uso di acqua ai fini alimentari per i quartieri interessati dall'erogazione. Il primo cittadino ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Caltanissetta hanno chiesto alla società siciliacque di intervenire urgentemente per eliminare le cause della torbidità dell'acqua. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. Droga in casa ha arrestato a Gela un giovane di 18 anni. Meticolosi controlli ed appostamenti in ambiti civili e alla fine l'irruzione. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato un giovane di 18 anni, Daniele Anucera, disoccupato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Nella sua abitazione nel quartiere Villaggio Aldisio, zona teatro del fiorente mercato di gestione di sostanze stupefacenti, così come dimostrato in altre circostanze, i militari dell'arma, coordinati dal tenente Michele Cerri, con l'ausilio di un cane pastore tedesco alle dipendenze del nucleo cinofili di Palermo-Villa Grazia, hanno effettuato una perquisizione cinturando il perimetro della casa. Accorgendosi di quanto stava accadendo, Nucera ha chiuso l'infisso della porta finestra d'ingresso affinché potesse guadagnare del tempo per giartare la droga 250 grammi di hashish custodita in un contenitore di plastica nel giardino attiguo, ma i carabinieri, dopo aver forzato l'infisso, sono riusciti ad entrare mentre altri uomini hanno bloccato il lancio della sostanza stupefacente. La perquisizione stesa ad un altarino attiguo all'abitazione e al giardino di esclusiva proprietà del giovane arrestato ha permesso di recuperare alcune dosi di marijuana, confezionate singolarmente ed un vaso con all'interno altre piantine. L'operazione dei carabinieri, oltre ad aver avuto un carattere repressivo, si va a collocare in un quadro sociale di prevenzione perché mirata a contenere lo spaccio di droga nei quartieri residenziali come ad esempio lo stesso quartiere Villaggio Aldisi o stazione ferroviaria e ad arginare il facile reperimento di sostanza stupefacente consumata da giovanissimi spesso minori i quali sono ignari delle ripercussioni devastanti sulla loro salute derivanti proprio dall'assunzione di droga. E la polizia di Gela incontrata Bulala ha rinvenuto all'interno di una serra di un gelese di 60 anni 4.440 piantine di pomodoro tipo rovetta. L'agricoltore non è stato in grado di dimostrare il legittimo acquisto ed è stato denunciato per ricettazione. La serra è stata sequestrata. Sempre la polizia, nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha controllato 557 persone e 269 veicoli. 3 le persone denunciate per vari reati. Un gelese di 45 anni è stato segnalato per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un'arma o un oggetto atti ad offendere. Un 49enne deve rispondere di ricettazione ed un 41enne di sottrazione o danneggiamento di cose in sequestro e violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di beni in sequestro. Personale della Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione, nell'ambito di specifici servizi, ha eseguito controlli amministrativi in sette locali pubblici contestando ad uno dei titolari la violazione del divieto di somministrazione e consumazione in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro dopo le ore 20, come da ordinanza sindacale del 31 ottobre del 2014, identificati inoltre 34 soggetti avventori dei locali. L'anziano gelese di 81 anni, Carmelo Liardo, scomparso ieri mattina, è stato trovato impiccato nella terrazza della sua abitazione al villaggio Aldisio. L'uomo, prima di allontanarsi, aveva detto alla moglie che avrebbe voluto farla finita. Aveva anche lasciato un bigliettino nella cassetta della posta chiedendo scusa e annunciando l'intenzione di morire. La sua famiglia proprio ieri aveva presentato una denuncia di scomparsa. Furto aggravato, ricettazione e incendio commessi in concorso sono le accuse mosse dalla procura della Repubblica di Ragusa nei confronti di tre uomini arrestati nelle ultime ore dalla polizia e dalla squadra mobile. Manette per Andrea D'Angelo, 29 anni, Jacopo Verzeroli, 36 e Fernando Damanti, di 35 anni. I tre sono tutti di comiso. L'indagine ha avuto inizio a seguito delle due complesse operazioni, denominate alta tensione 1 e 2, che hanno permesso di ridurre quasi del tutto i furti di cavi di rame per la conduzione dell'energia elettrica ai danni dell'Enel. In occasione delle due importanti operazioni, i dirigenti del settore sicurezza di Telecom hanno contattato gli uffici della questura di Ragusa al fine di chiedere uno specifico intervento a tutela delle linee telefoniche ed in particolar modo degli utenti, spesso proprietari di aziende del settore agroalimentare e zootecnico della provincia Iblea, che subivano ingenti danni alle loro attività. L'esame del fenomeno criminale dei furti di rame ai danni di compagnie di fornitura di energia elettrica era già ampiamente conosciuto, di contro quello dei cavi per le linee telefoniche non era ancora stato studiato in modo approfondito. Un esame di tutti i reati subiti dalla Telecom ha permesso agli investigatori di concentrare i propri sforzi investigativi nel territorio di Comiso, dove, grazie alla collaborazione del gestore telefonico e quindi l'installazione di diverse telecamere, è stato possibile dare avvio all'attività. Le telecamere installate hanno permesso di constatare con certezza che i tre arrestati, dopo che distruggevano le linee telefoniche, prelevavano i cavi per bruciarli, da qui il nome dell'operazione Hotline. Per gli inquirenti i tre arrestati avevano lo scopo di bruciare i cavi telefonici al fine di poter prelevare il rame o l'alluminio, altro metallo divenuto prezioso dopo che il rame è stato sostituito per i continui furti. L'attività di indagine ha permesso inoltre di appurare che i criminali non fossero dediti solo ai furti di cavi di rame o alluminio, ma a qualsiasi altro reato predatorio. L'attività di indagine ha permesso di ricostruire diversi reati da loro commessi nel territorio casmeneo e ad Acate da giugno ad agosto 2015. Cambiamo argomento, lunedì 6 febbraio alle 9 il Comune di Vittoria ospiterà un incontro per la partecipazione dei territori e delle comunità locali alle scelte del Costituendo Gruppo d'Azione Locale Valli del Golfo per l'elaborazione di una strategia per lo sviluppo locale di tipo partecipativo, in particolare del Piano di Azione Locale. All'iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco di Gela, Domenico Mersinese, l'Assessore Comunale allo Sviluppo Economico, Simone Siciliano ed esperti facilitatori a disposizione di portatori di interesse cittadini. Al centro dei lavori, l'atto costitutivo e lo statuto del GAL Valli del Golfo, la rilevazione dei punti di forza e di debolezza del territorio per la definizione dei fabbisogni prioritari di intervento nel PAL e la condivisione degli ambiti tematici di intervento della strategia. Oltre 72 mila gli italiani affetti da sclerosi multiple e più di 6 mila sono presenti in Sicilia. Si tratta di una malattia che colpisce molto i giovani tra i 20 e i 40 anni e per cui la ricerca continua ad andare avanti. Anche se attualmente non ci sono delle cure irrisolutive, esistono delle terapie che aiutano a diminuirne l'incidenza e la sua progressione. In occasione della settimana nazionale AISM dell'Asciti 2017, iniziativa promossa dall'AISM e dalla sua fondazione con la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato e che va dal 23 al 29 di gennaio, anche a Caltanissette è stato organizzato un incontro. Un appuntamento svoltosi giovedì 26 gennaio 2017 al centro polivalente Michele Abbate, in presenza di due notai, Laura Candura e Salvatore Pilato. Nasce perché come associazione, anche a livello nazionale, ci siamo accorti di quanta richiesta ci fosse rispetto a una tematica così importante come quella dei lasciti testamentari. L'incontro di oggi infatti prevede una parte iniziale in cui si parlerà in maniera generale della regolamentazione anche giuridica dei lasciti testamentari, per poi scendere nello specifico e dare la possibilità informativa alle persone che lo volessero di richiedere informazioni sui lasciti testamentari, quindi sulla possibilità di lasciare qualcosa anche alle associazioni di volontariato. Quindi questo sostanzialmente è il nucleo centrale di interesse che AISM nazionale e Consiglio nazionale del lottariato ha deciso di studiare. Faremo un'attività di divulgazione, un'attività attraverso cui speriamo di poter essere utile alla cittadinanza ed utile ovviamente all'AISM che ci ha invitato per poter parlare in generale della possibilità che ha ciascun cittadino di poter disporre dei propri beni tramite donazione o ancor più mortis causa, quindi tramite una disposizione testamentaria e in tutto questo ovviamente faremo particolare riferimento a quelle che possono essere delle disposizioni e dei lasciti che siano a favore di associazioni che così come l'AISM svolgano delle attività di ricerche. La nostra attività è condotta oggi e per tutta la settimana in collaborazione col Consiglio nazionale del notariato che da 13 anni svolge questa attività assolutamente positiva e magnifica con l'associazione italiana Sclerosi Multipla. Si darà domani a Gela il Lions Day, ottava circoscrizione nell'ambito del centenario. Appuntamento alle 10 in piazza Umberto I con la parata Lions. Parteciperanno i tamburi imperiali, gli sbandieratori, le bandiere internazionali, i labari e la banda. Alle 11 saranno offerti i controlli sanitari gratuiti della vista dell'udito della glicemia della ipertensione e ci sarà la premiazione dei ragazzi delle scuole medie della città che hanno vinto nel concorso un poster per la pace. A tutti sarà consegnato l'attestato di partecipazione prevista. Inoltre l'estemporanea da parte degli alunni della liceo artistico Ettore Majorana e la degustazione con la partecipazione degli alunni dell'istituto albreghiero Luigi Sturzo. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi sono gli argomenti più importanti di questo numero. Sicilia a testa in giù, Assemblea e Governo regionale affossano la riforma delle province. Il rinvio delle elezioni per i nuovi enti intermedi slittano a fine anno. Dura la protesta dei comitati referendari. È l'articolo di apertura del giornale che affida a Giulio Cordaro il fondo di prima pagina sullo stesso argomento. Nella pagina politica il resoconto dell'ultima seduta consigliare a firma di Nello Lombardo e la finestra su Niscemi con l'intervista di Lucrezia Ferro all'assessore Giugno. All'interno articoli di attualità e cultura a firma di Salvatore Parla Greco, Zaira Placenti, Franca Genuso e Cinzia Sciagura. Da segnalare una riflessione di Francesco Pira, sociologo e giornalista. Pira prende lo spunto dalla longevità del Corriere di Gela per parlare del ruolo dei giornali locali. Infine lo sport con le finestre sulle due maggiori squadre di calcio cittadine, Gela e Terranova e sulla pallavolo femminile. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Si intitola Passaggio in Sicilia, il libro di Massimo Nofri, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Sassari che sarà presentato mercoledì 1 febbraio alle 17 nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, retto da Angela Tuccio. L'iniziativa è della libreria Mondadori, in collaborazione con l'Istituto Scolastico. Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. Dialogherà con l'autore Ivo Abela. Far conoscere gli odori, i sapori e i colori della cucina nissena al di là del territorio e al di fuori dell'isola. Con questo intento, anche quest'anno, l'Associazione Provinciale Cuochi di Caltanissetta parteciperà alla selezione regionale della gara organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi e dall'Unione Regionale che si terrà a Piazza Armerina il 30 gennaio. Una selezione che servirà ad accedere alla fase nazionale della gara, a cimentarsi nella preparazione di piatti a base di prodotti tipici del territorio, assieme all'Associazione Provinciale Cuochi di Caltanissetta. Da sempre attenta alla formazione delle giovani generazioni, ci sarà anche Claudia Ferla, studentessa della Quarta F dell'Istituto Alberghiero, senatore Angelo Di Rocco. Una notizia, quella della partecipazione al concorso, che il presidente dell'Associazione, Giovanni Chianetta, affiancato dal tesoriere Massimo Savoia e dal segretario Umberto Spinelli, ha voluto diffondere anche attraverso i nostri microfoni. Anche quest'anno, come l'anno scorso, noi siamo presenti alla gara regionale che si svolgerà a Piazza Armerina. L'anno scorso si è svolta qui a Caltanissetta e siamo arrivati primi qui a Caltanissetta e poi siamo andati al nazionale e ci siamo qualificati quarti. Speriamo quest'anno la nostra candidata, che è un'alunna dell'alberghiero, porti buoni risultati. Il piatto che abbiamo pensato è un piatto con i prodotti nostri tipici qui di Caltanissetta, utilizzando delle erbe spontanee e quant'altro. L'obiettivo è quello di far conoscere proprio le nostre tradizioni e i nostri prodotti. Noi abbiamo già fatto la selezione provinciale, abbiamo la candidata a essere regionale e poi, se va bene, andiamo al nazionale, se arriviamo primi, che si svolgerà a Rimini, in occasione dell'internazionale d'Italia. Cambiamo argomento, adesso parliamo di sport, calcio, il gelo finalmente, dopo due domeniche di stop forzato, scende in campo, domani i Biancazzurri saranno di scena in Campania contro il Gladiator. Finalmente si scende in campo, il Gela, dopo due settimane consecutive di stop forzato, domani giocherà. Gara in trasferta per l'11 Biancazzurro. Saite e compagni saranno di scena Santa Maria Capovetere contro il Gladiator, partita che presenta numerose difficoltà. I campani, infatti, in classifica, seguono proprio il Gela e faranno di tutto per vincere. E in terra campana, si sa, non è facile per gli avversari. Ambiente caldissimo. I gelesi del tecnico Pietro Infantino non giocano dall'8 gennaio scorso quando, alla ripresa del girone di ritorno, batterono con un rotondo 3-0 il Pomigliano. Poi due domeniche di stop. A Sersale, il 15 gennaio, non si è giocato per le abbondanti nevicate che hanno interessato il comune catanzarese. Domenica scorsa, invece, non si è disputata la partita con il Due Torri e Vincenzo Presti per la rinuncia della squadra mercinese esclusa dal campionato. La partita con lo Sersale, che doveva recuperarsi mercoledì scorso, è stata nuovamente posticipata per maltempo. Si giocherà mercoledì 1 febbraio. Tornando alla partita di domani, come dicevamo, non sarà affatto facile dinanzi al pubblico di casa. Infatti, le compagini campane si trasformano. Veniamo da questo lungo riposo forzato, però ci siamo preparati bene, abbiamo cercato di tenere alta la tensione e andiamo a affrontare questo primo mini tour de force. In una settimana avremo tre gare e sicuramente una gara da prendere con le pinze, perché in Campania, soprattutto il girone di ritorno, si farà parecchio fatica a racimolare punti. Però, visto la squadra molto concentrata, ben determinata, andremo, come al solito, a vendere cara la pelle. Al di là dell'aspetto ambientale, il Gela farà di tutto per ottenere un risultato positivo e quando c'è stato da dare il 100%, i biancazzurri non hanno mai fallito. Abbiamo ben consapevolezza dei nostri mezzi, i ragazzi ci tengono tantissimo a migliorarsi, a continuare su questa scia, abbiamo una maglia da rispettare, una società, una tifoseria. I ragazzi sanno benissimo e hanno voglia di continuare a fare bene. La pubblica assistenza Trinacri Emergency, già giù in Italia, apre le iscrizioni per diventare volontari. Presso la sede della pubblica assistenza in via Falcone, contratta a Bucazzi, a Gela, il 7 febbraio inizierà il nuovo corso gratuito teorico-pratico per aspiranti volontari del soccorso aperto a tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto almeno 16 anni. Durante il corso saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso, protezione civile, diritto, conoscenza delle attrezzature, dei presidi presenti sulle ambulanze e prove pratiche. Per informazioni 0 933 91 44 19 si può inviare anche un'email all'indirizzo trinacriamergency.gmail.com e si può anche visitare la pagina Facebook Trinacri Emergency Gela. Ultimo appuntamento dell'83esima stagione concertistica giulese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. domani alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si trarà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica Violino e Simone Campanella Pianoforte. Abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine settimana vi ricordiamo sempre che il sito online tg10.it è costantemente aggiornato e aggiornato anche il nostro televideo. Grazie e arrivederci a presto god Mazur a presto a presto per